Buongiorno da Carmine Albanese, ultimora appello ai lucani donate il sangue. La regione Basilicata ha diffuso l'appello attraverso un comunicato di donare il sangue, soprattutto in questo periodo quando le quantità di donazioni calano notevolmente. I dati del 2022 confermano che la Basilicata è una regione che consuma più sangue di quello che raccoglie. Nel comunicato viene inoltre ricordato che possono donare tutti i cittadini in possesso di documento di identità valido che abbiano tra i 18 e i 65 anni, con un peso corporeo minimo di 50 kg e che siano in buono stato di salute. Un gelato sorto dalla fermentazione dei legumi e questa l'idea della start-up innovativa pugliese Celeri di Polignano a Mare, specializzata in nutrizione e sviluppo di soluzioni alimentari avanzate. Attraverso un processo innovativo di fermentazione è possibile creare una bevanda senza zuccheri in più formati, realizzando così un gelato privo di latte, lattosio, glutine, grassi idrogenati, sostanze OGM, proteine animali e coloranti. Il gelato darà nuova linfa ai legumi e ai cereali fermentati. A Campomaggiore il trofeo Città dell'Utopia è stata una bella giornata di sport ieri nel comune di Campomaggiore, con il secondo trofeo Città dell'Utopia, una gara composta da 70 ciclo amatori e caratterizzata da un percorso di 65 km suddiviso in 18 giri. La vittoria è stata conquistata da Ciro Greco di Grottaglie davanti a Onofrio Monzillo e Valerio Garofalo. Per quanto riguarda le donne ha vinto l'italo-canadese Flavia Pieri davanti a Clarissa Bollettieri e Rosangela Greco. Il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi, tramite un post su Facebook, ha fatto sapere che la manifestazione ha promosso lo sport, il valore culturale del territorio e lo stile di vita sano, come testimoniato anche dalla presenza del 67enne Domenico Barone. A Potenza il nuovo libro di Rocco di Bono. Per quanta luce è il titolo del nuovo libro di Rocco di Bono che sarà presentato a Potenza presso la Sala Palazzo di Cultura alle ore 18 giovedì 14 luglio. L'incontro sarà moderato da Tonino Califano e interverranno Chiara Rizzi, docente dell'Università degli Studi della Basilicata, Anna Gloria Piccini, magistrato della Procura della Repubblica di Potenza e Ivana Pipponzi, consigliera regionale di Parità della Basilicata. Il libro pone l'attenzione sul fenomeno del femminicidio. Infatti, secondo un report della Polizia di Stato, nel 2021 in Italia ci sono stati 295 omicidi nei quali le vittime donne sono state ben 118. Da Carmine Albanese è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.